È arrivato il momento di parlare meglio di Hype, anche perché ho ordinato finalmente la mia carta che vi faccio vedere, è arrivata anche questa, quindi ho un altro strumento per utilizzare, diciamo, i miei Bitcoin in un modo ibrido, se così vogliamo dire, ossia un ponte tra il sistema vecchio, quello bancario, e quello nuovo, che è quello delle cripto. Ma in questo caso la cosa diventa molto più interessante con Hype, perché Hype è una vera e propria banca, perché dietro, appunto, ha bancasella, quindi è un sistema fintech che integra un sistema che si appoggia su Bitcoin, grazie alla startup che abbiamo imparato a conoscere, che è Conio. Devo dirvi che questo video è un video sponsorizzato, non ne facevo da tempo, ho deciso di farlo perché questo servizio è tra i più interessanti dell'ecosistema. Ho aspettato un po' per parlarne, in realtà no, perché vi farò vedere che abbiamo già fatto un podcast su Coinsquare al riguardo di questo. Quando seleziono un video sponsorizzato è perché a me piace il servizio, ricevo tantissime richieste, soprattutto in questo periodo non sto riuscendo neanche a gestirle, per parlare di determinati servizi e prodotti, li scarto al 99,9%. Però Hype è un servizio interessante e secondo me è un entry point da tenere sott'occhio, soprattutto per chi ha approcciato da poco a questo mondo ed ha molte difficoltà nell'inquadrare il discorso exchange, wallet, trasferimenti. Ecco, queste sono le problematiche comuni che vedo, che riscontro e che questo servizio risolve. Ho già riassunto il discorso. Prima di andare a vedere come funziona, voglio farvi vedere che la notizia è stata coperta dalle testate mediatiche più importanti. Adesso qui ho un articolo scritto in italiano su Cointelegraph Italia, ma è già stato coperto quando la notizia è stata lanciata, anche da Cointelegraph Internazionale, ma anche tutte le altre testate mediatiche più grandi. Perché? Perché l'importanza di sapere che c'è una banca con licenza bancaria che ha consentito tramite la banca, diciamo, centrale italiana, la banca d'Italia, non è più una banca centrale, ma sappiamo, è l'autorità che consente o non consente queste operazioni su territorio italiano, di poter fare compravendita su Bitcoin è una notizia comunque molto molto importante. E potrebbe essere quindi l'apertura che mancava e quel collegamento tra il vecchio e il nuovo mondo. Hype è un servizio fintech rivolto prevalentemente ai giovani dove si ha un conto bancario, quindi un IBAN e una carta per poter spendere, fare ricariche, insomma si possono fare diverse attività, c'è il cashback, si possono gestire risparmi e appunto tante altre cose, ed ha tre livelli con una carta del tutto gratuita, quella che vi ho fatto vedere io, io l'ho ordinata in modo semplice, ho scaricato l'app, ho ordinato la carta, ho aspettato che arrivasse, non ho fatto nulla nonostante abbia appunto un contatto magari diretto con il team di Conio, ma non ho avuto un contatto diretto ad esempio col team di Hype, ho fatto tutto come se fossi un cliente che segue un link, scarica l'app, fa la sua registrazione e richiede la carta, niente di più. Quindi questa carta e questo conto sono del tutto gratuiti, non costano nulla. Ovviamente se si passa ai piani, quelli a pagamento, si hanno dei vantaggi, vedremo, soprattutto legato al mondo Bitcoin si ha un upgrade dei limiti. Abbiamo già presentato in modo approfondito direttamente col fondatore di Conio, Cristian Miccoli, qui sul canale Coinsquare, in un podcast abbiamo parlato con Filippo Angeloni dei vantaggi e di che cos'è Hype, perché hanno deciso di fare questa operazione insieme e io ve lo rispiegherò in modo molto molto semplice. Cristian Miccoli è il fondatore di Conio, cos'è Conio? Ho parlato anche di questo, ormai è passato quasi un anno, ma vi faccio vedere, dal mio canale basterà cercare Conio, come avviene sempre per qualsiasi tipo di tematica, trovate questo video, tra l'altro in Italia è il video più visualizzato sull'argomento. Qui dicevo dove comprare Bitcoin? Conio. Bene, è il sistema probabilmente più semplice sul territorio italiano in Italia per comprare Bitcoin, perché effettivamente basta scaricare un'app con anche una Postepay si ha subito la possibilità di acquistare. Questo sistema, che è una startup, viene integrata all'interno di Hype, perciò Hype dichiara che sono arrivati i Bitcoin. Hype, che è il sistema fintech coperto e basato su bancasella, integra quello che è un meccanismo, quindi è Powered by Conio, per l'acquisto di cripto e di Bitcoin. Vediamo quali sono i vantaggi, quelli più importanti che vedo io. L'idea di base, la stessa cosa che ci dice Cristian nel podcast, è quella di abbattere le barriere iniziali, perché io questo lo tasto con mano. Tantissime persone mi chiedono, sì, ma da dove inizio? Dove compro? Mi conviene comprare su Coinbase? Mi conviene comprare? E questo l'ho passato anche io, ovviamente, in fase iniziale. Il fatto di dover scegliere un exchange sul quale iniziare è una barriera d'ingresso. Per chi volesse semplicemente comprare magari una parte di Bitcoin, perché? Perché si vuole salvaguardare, vuole avere qualcosa di differente e magari, vista la situazione critica che stiamo vivendo, avere un qualcosa in un asset scorrelato. Bene, però, se per fare questo, magari con poco, deve studiare come funzionano gli exchange, Coinbase che sia, comunque sia, è un qualcosa di più complesso, anche perché una volta che si è fatto l'account, non è finita lì, bisogna fare il riconoscimento, KYC, AML, bisogna mandare i propri documenti, la foto, eccetera, eccetera. E fatto questo, non è finita, perché bisogna comunque utilizzare un proprio conto che bisogna avere e non va bene, ad esempio, la Postepay spesso non viene accettata e bisogna fare poi un deposito. Se si compra con carta di credito è più veloce, ma le commissioni sono molto più alte rispetto a Conio o rispetto ad Hype e se si compra invece facendo un bonifico bisogna aspettare non so quanti giorni perché è un bonifico internazionale che viene comunque inviato, ad esempio, in Estonia o comunque un trasferimento bancario internazionale che se capita, ad esempio, il weekend di mezzo passa veramente tanto tempo. E finito questo, ok, si sono i soldi sulla piattaforma, bisogna scambiarli, si scambiano e in quel momento però si hanno ancora i bitcoin sull'exchange e non bisogna mai detenere dei bitcoin sugli exchange perché not your key, not your crypto. Se non avete la chiave non sono vostre, quindi bisogna anche imparare a gestire un wallet. Ovviamente sull'exchange offrono anche l'opportunità di avere un wallet, ma non avete il controllo delle vostre chiavi. Invece il sistema Hype è pensato proprio per dare anche la gestione della chiave e di questo voglio parlare perché è un punto importante. Ecco, in questo modo, semplicemente in questo modo, con una singola app, praticamente una volta che si ha il conto su Hype, che si apre in una facilità assurda, basterà seguire il link, tra l'altro ho un mio link che trovate in descrizione, scaricate un'app, registrate, richiedete la carta, altrimenti avete una carta virtuale, già avete un conto una volta fatti le procedure di registrazione. Una volta fatto questo, basterà abilitare, come vi voglio far vedere, il conto in 30 secondi per poter comprare Bitcoin e siete subito in grado di farlo, anzi, vediamolo subito. Ok, questa è la mia app, al momento non ho ancora depositato nulla sull'app, vado in basso a destra sul menu e vediamo che c'è l'opzione Bitcoin. Basterà cliccare con il dito su questa app, su questa icona, attivare, ci spiega che si può fare compravendita di Bitcoin, qui poi basterà leggere tutti gli step, si possono anche inviare e ricevere, cosa che magari su Revolut non si può fare. E poi si ha la massima sicurezza, vi parlerò anche delle chiavi e di come funziona l'aspetto sicurezza che per me è fondamentale. Ci sono i termini di servizio, una volta letti ed accettati i termini di servizio, ci dirà che il servizio è comunque gestito da conio. A questo punto il servizio è già attivo. Ecco, congratulazioni, siamo già in grado di accedere e vediamo che questo è il nostro portafoglio in Bitcoin, direttamente nell'app. Quanto ci ho messo? Penso neanche 30 secondi. Abbiamo il prezzo, abbiamo la possibilità di inviare Bitcoin direttamente su questo, che è un wallet a tutti gli effetti. Possiamo, questo è il nostro indirizzo, tramite QR code, possiamo condividerlo, possiamo andare ad inviare già da ora i Bitcoin su un altro wallet, se volessimo pagare direttamente in Bitcoin, perché questo è come se fosse un portafoglio, quindi o paghiamo in euro o paghiamo in Bitcoin direttamente o paghiamo con la carta e possiamo cambiare Bitcoin in euro e pagare con la carta. Ad esempio, abbiamo diverse modalità di pagamento in questo caso. Ovviamente qui ci fa vedere che per aumentare poi i limiti c'è bisogno di passare magari al livello superiore. Di quello poi brevemente ve ne parlo. Qui non ho in porto ancora da poter scambiarmi, ma se ne avessi potrei comprare l'equivalente direttamente da qui di 100 euro, ad esempio in Bitcoin, e avrei il cambio automatico ed istantaneo. Bene, questo è l'app. Finita qui è semplicissima. Il discorso è proprio questo, la semplicità e l'immediatezza. Noi che siamo in questo settore, soprattutto io, magari alla pretesa che tutti sono esperti, ma se questo discorso e questo settore deve in qualche modo trovare il modo di espandersi, si deve espandere, deve trovare il modo di diventare più semplice e queste sono le cose che mancano al settore. Perché se io dovessi dire, e cosa che faccio, ai miei parenti, a mia madre, a mio padre, guardate un qualcosina, un minimo in Bitcoin, in questo momento storico sarebbe meglio averla. Di certo non posso mettermi lì, io che lo faccio tutti i giorni, a spiegare come funziona aprire un conto su Coinbase, che è la cosa più semplice. Andare a fare un trasferimento, un bonifico su quella piattaforma, fare lo scambio, andare a vedere i prezzi, per magari abbassare le commissioni, spiegare come funziona Coinbase Pro, è un processo che richiede del tempo ed è una barriera d'ingresso. Con una cosa del genere è istantaneo. Chiunque ad oggi sa usare una cosa del genere, dico scarica di questo, il resto è tutto in autopilot, non devo neanche spiegare nulla. Chiunque arriverebbe a comprare Bitcoin con una piattaforma del genere. È questo il vero potere che vedo io, è quello che volevano raggiungere anche loro e questa partnership fatta tra Conio e Aip. Se seguite, se andrete poi a seguire per approfondire il podcast fatto con Cristian Miccoli, dirà esattamente queste cose. A questo punto i due aspetti a cui tengo sono quelli delle chiavi e quello della sicurezza. Prima di andare a parlare di questo, innovazione e sicurezza, qui ci parla della tecnologia di Conio, che appunto è una startup, ma è una SRL su quale Aip si va a basare. Il sistema di sicurezza, eccolo qui, è un sistema a tre chiavi che ho già spiegato quando ho parlato di Conio, quindi vi rimando al video, questo qui, dove comprare Bitcoin Conio, per approfondire questo sistema. Vi parlavo di come tutto è basato su un sistema di sicurezza a tre chiavi. In termini tecnici si chiama Multisig, si chiama Address a Multisignature, a più firme. Che cosa vuol dire? Che per inviare Bitcoin servono due firme su tre, almeno due su tre. Quando noi creiamo un wallet, in questo modo qui, noi otteniamo una firma, quindi abbiamo una parte della chiave. Ne serve almeno un'altra. Chi ne detiene le altre due? Bene, una viene detenuta da Conio stesso, che ogni volta che noi vogliamo inviare i nostri Bitcoin, accedendo tramite il server di Conio, Conio utilizza quella parte, e quindi due firme su tre vanno a firmare la transazione, e noi siamo in grado di fare le operazioni. L'altra, in questo contesto, è detenuta da Aip stesso, e Aip la detiene in custodia, in questo caso senza doverla utilizzare, senza la necessità di doverla utilizzare. Qualcuno penserà, a questo punto io ho solo un terzo, non sono in grado di gestire i miei fondi, e invece no, perché così tutti sono sicuri che nessuno può imbrogliare, perché se noi dovessimo essere, magari non vogliamo imbrogliare, ma dovessimo essere magari hackerati, subire un furto, perdere la nostra parte della chiave, ne abbiamo altre due a disposizione, contattando Conio, contattando Aip, dimostrando che siamo noi, possiamo tornare in possesso, e rimuovere i nostri Bitcoin. Cosa che in un sistema tradizionale, non succede, perché ad esempio, anche su un hardware wallet, su un ledger, io devo impiegare tanto, per spiegare come funziona un hardware wallet, se questo non viene settato, e non viene gestito bene, da una persona inesperta, che dovesse perdere il proprio seed, dovesse in qualche modo, smarrire le 24 parole chiave, a quel punto non ci sarebbe più per nessuno, la possibilità di recuperare quei Bitcoin. In questo caso, abbiamo la sicurezza, che c'è un modo, secondo me questo è, per una persona che approccia, il metodo più sicuro in assoluto, ma non solo per un neofita, anche per una persona più esperta, perché? Perché ha una garanzia, anche dal punto di vista, ci dovesse succedere qualcosa. Ad esempio, se ci dovesse succedere qualcosa, e solo noi sappiamo, le chiavi private per accedere a un wallet, non ci sarebbe modo per nessuno, per i nostri parenti, per poter, in qualche modo, ottenere quello che era di nostra proprietà. In questo modo si garantisce anche un sistema di eredità, lo so che un pensiero è una cosa brutta, però è un qualcosa, che al momento nel mondo delle cripto, è un problema. In più, siamo anche tutelati, perché né Cogno, né Aip, controllano i nostri fondi. Per dover muovere i nostri fondi, si dovrebbero mettere d'accordo Cogno e Aip, e farci una truffa, nei nostri confronti, usare le loro partite chiave, e muovere i nostri Bitcoin. E si dovrebbero esporre quindi a una denuncia. Considerate che hanno una licenza bancaria, emessa appunto dalla Banca d'Italia, non penso che per muovere dei Bitcoin, che magari abbiamo su un wallet del genere, dove magari non deterremo, non so, i miliardi, ma in ogni caso, non ne vale la pena. È una truffa a tutti gli effetti, alla quale si espongono delle persone, dei professionisti. Non stiamo parlando di un exchange a Estone, o qualcosa del genere, o un exchange dove non sappiamo neanche chi c'è dietro magari. E non mi riferisco a Coinbase, o a altri, mi riferisco magari a realtà più piccole, più sconosciute, dove l'aspetto sicurezza è molto meno tutelato. Anche in caso invece, questi non vogliano truffare, ma magari falliscano. Bene, ce lo spiega benissimo anche questo, Cristian Miccoli. Se dovesse fallire Conio, che cosa succederebbe? Conio è una società, quindi arriverebbe un curatore fallimentare. In questo contesto, tutto ciò, in possesso di Conio, andrebbe ad essere messo ad asta. Però attenzione, torniamo al discorso di Bitcoin. Bitcoin non è in possesso di Conio. Bitcoin è in possesso nostro. Noi abbiamo una chiave. Conio ha solo una parte di quella chiave, ma l'altra l'ha anche hype. Quindi in questo contesto i Bitcoin sono nostri. Non sono di Conio. Non è come un conto in banca, dove effettivamente i soldi sono della banca. Attenzione a questo aspetto. I Bitcoin sono sempre nostri. Il curatore fallimentare, in quel caso, che cosa farebbe? Grazie all'aiuto di Hype, farebbe in modo di muovere i nostri Bitcoin e noi saremmo in grado di spostarli da Conio, da Hype in questo caso, a un nostro wallet. Non c'è rischio. Stessa cosa, se dovesse fallire Hype e il processo si farebbe tramite Conio. In ogni caso, io vedo questo sistema molto sicuro e per arrivare a un sistema, diciamo, fraudolento, beh, a quel punto tantissime altre cose dovrebbero andare male. Lo stesso conto in banca che abbiamo, non ci sarebbe più nulla di sicuro in questo mondo, ecco. Il rischio, in realtà, risiede in ogni cosa, quindi anche questo è relativo. Parliamo dell'aspetto dei limiti. Ovviamente, con il conto gratuito, i limiti sono quelli di acquisto giornaliero a 500€ e si ha anche una commissione sull'acquisto che adesso è diventata al 2%. Ovviamente, il conto è tutto gratuito, si paga un po' di più di commissione. Con i conti in upgrade, come ad esempio il Plus, si comincia a pagare meno di commissione, l'1,5% che è ancora accettabile, a mio modo di vedere, in quanto si paga quella che è la comodità. Si ha un acquisto dei limiti giornalieri vicino ai 5.000€ che comincia a diventare tanto e un limite di acquisto annuale a 50.000€ mentre invece quello gratuito è molto molto basso. Dobbiamo considerare che il Plus costa 1€ al mese, quindi molto poco. Questo dipende dall'utilizzo che noi abbiamo. Quello che direi io è iniziare con un conto gratuito se vediamo che utilizziamo e stiamo spendendo di più di commissione perché questo servizio lo utilizziamo tanto, beh, a quel punto ci conviene spendere 1€ e andiamo a ammazzare tutte le altre commissioni e abbiamo dei limiti molto più alti. Dipende da noi, ovviamente. Se abbiamo necessità ancora più alte c'è il conto premium che abbassa ancora di più le commissioni. Ad esempio, se acquistiamo tanto e frequentemente, ecco, un' commissione d'acquisto dell'1% è tra le più basse in assoluto del settore. Per finire questo video voglio poi nominarvi un'altra chicca che si ha su questo conto hype. Si può ricaricare il conto hype anche con il contante finché questo durerà. Praticamente, tramite Barta, Bacchi, Edicole, ci sono tante aziende che sono partner già, quindi anche PAM come supermercato, Sisal Pay, si scannerizza un codice, si ricarica con il cash e si hanno i soldi direttamente sul conto hype. Questo diventa con bitcoin molto comodo perché praticamente si possono poi comprare bitcoin con contante. Se abbiamo dei contanti e non sappiamo come fare questo processo, andiamo a ricaricare il nostro conto hype e possiamo comprare dei bitcoin tramite questo sistema sul nostro wallet ricaricando con dei contanti. Questa è una soluzione che è una chicca che in realtà non si può fare ad esempio su altri sistemi. Non ne conosco un altro in cui si possa fare questo meccanismo a meno che non andiamo a un ATM bitcoin e a quel punto le commissioni sono molto più alte. Si parla a partire almeno dal 6% per arrivare al 10% su ogni acquisto. Insomma questa è la mia recensione di hype. Io approvo questo prodotto anche perché è un po' che lo sto già valutando e non avrei fatto un video purché sponsorizzato se non mi fosse piaciuto quello che stanno facendo anche perché ho parlato diverse volte anche con Christian Miccoli e so che lui sposa una missione di far espandere il settore bitcoin. Non lo fa chissà che per arricchirsi è già un esperto nel settore bancario ha avviato che banca e ha lavorato in Ingi Direct insomma guardate il suo curriculum lui è sempre stato un innovatore e adesso è anche un supporter di bitcoin guardate come parla e fa del suo per far espandere questo settore per far sì che bitcoin venga adottato nel modo più semplice possibile quindi abbattere queste barriere di ingresso e secondo me ci stanno riuscendo sono dei innovatori e questa notizia ha già fatto il giro del mondo perché per una volta in Italia stiamo avanti agli altri con questi sistemi detto ciò questo cade a pennello questo video perché parleremo e approfondiremo di tutti questi servizi legati alle carte in un podcast che avverrà mercoledì 27 alle 21 e 30 se questo video è visualizzato dopo lo troverete comunque sul canale coinsquare quindi troverete già il video fatto in live vi ringrazio per l'attenzione tutti i dettagli sono in descrizione fatemi sapere se già avete provato questo servizio e cosa ne pensate e cosa ne pensate